Il nostro paese è estremamente importante che Roma ospiti una grande manifestazione che al tempo stesso è una manifestazione fieristica ma anche un'occasione di convegni in cui si manifestano tutte le potenzialità delle tecnologie spaziali. Per noi alla Sapienza è quasi un obbligo partecipare a queste iniziative perché il mondo delle imprese che offrono queste nuove tecnologie e che coprono i servizi più diversificati ai cittadini oltre che ovviamente tutte le attività di ricerca e di esplorazione costituiscono proprio l'insieme delle opportunità per i nostri giovani per trovare un'occupazione, una carriera in un settore di grande soddisfazione caratterizzato dalle tecnologie più avanzate. Difesa, applicazioni civili, università. Tre settori apparentemente distanti che si trovano uniti nello spazio così come vengono ridotte le distanze e vengono eliminati i confini fra le nazioni. Quindi lo spazio è un elemento che unisce. Ma senz'altro lo spazio è quella dimensione che ci dà l'idea di essere in un ambiente globale che tutti condividiamo e del quale condividiamo anche il destino. L'università secondo me ha un grosso ruolo in questo nel promuovere le condizioni di benessere di tutti gli uomini sul pianeta, di tutti i cittadini sia dei paesi sviluppati che dei paesi in via di sviluppo e quindi ha grandissime potenzialità anche per il mantenimento della pace e della sicurezza in tutte le aree del mondo. Ed è chiaro che questa insieme con la naturale propensione per la ricerca, per le attività di esplorazione della terra stessa, del sistema solare e anche al di fuori del sistema solare, questa è la proiezione più tipica di un'università che ovviamente deve proiettare le sue attenzioni a partire dal mondo della formazione e dell'attività didattica ma profondamente radicata nel mondo della ricerca. Certo e quindi oltre in questa edizione in particolare del State Expo, oltre alla folta presenza della componente accademica, ce n'è anche una molto importante della parte industriale, quindi rappresentanza delle aziende e rappresentanza del business collegato allo spazio. Ma per noi anche come università noi è chiaro che ci preoccupiamo di attività di ricerca, come ho detto, ci preoccupiamo della formazione dei nostri giovani. Però il mondo delle imprese è un mondo con il quale noi dobbiamo necessariamente stabilire un dialogo perché di fatto questo è il contesto nel quale i nostri ragazzi dopo aver avuto il training presso le nostre università, dopo aver conseguito i loro titoli di studio, si lanciano e trovano le opportunità di carriera. A questo proposito le nostre iniziative sono estremamente ricche e variegate. Abbiamo anche delle iniziative espressamente organizzate per l'attività spaziale, in particolare il Master in Satelliti che io dirigo, che è un Master che ha l'ambizione di formare i nostri ragazzi non solo nell'ambito della competenza ma anche della professionalità specifica che serve per operare direttamente nelle condizioni reali di vita di un'azienda o di un'agenzia spaziale. Per questo motivo il Master è anche frequentato da personalità del mondo degli enti governativi, dell'agenzia spaziale italiana, del sistema difesa e il Master essendo offerto interamente in inglese offre anche un contesto idoneo per ospitare gli studenti stranieri che volessero nella nostra università sviluppare una competenza professionale in questo settore.